L'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria presenta la nuova offerta formativa. Ai tradizionali corsi di studio si aggiungono diverse novità al passo coi tempi. Alcuni percorsi sono unici in Calabria e nell'area dello stretto. 23 corsi di studio con 48 percorsi curricolari che abbracciano 7 aree. Agraria, architettura, economia, giurisprudenza, ingegneria, sanità e scienze sportive e scienze umane. Dottorati di ricerca e vari percorsi post lauream. Laboratori all'avanguardia, ricche biblioteche, eccellenze nella ricerca. Numerosi accordi internazionali e opportunità di studio all'estero sono soltanto alcuni degli aspetti di sicuro valore e affidabilità. Per tutti gli studenti tanti servizi gratuiti, medico-sanitari, di trasporto, linguistici, sportivi, ricreativi e altri ancora. In un ambiente sano e accogliente. Il contributo iniziale di iscrizione è pure di mezz'anni. Scegli l'Università di Reggio Calabria Mediterranea. La ricchezza delle origini.